Siamo con Niccolò Torrini, tornato al gol oggi e un commento sulla partita. È stata una partita molto combattuta contro una squadra che comunque, nonostante avesse zero punti, è stata molto preparata, molto forte, ci aspettava. È stata una partita molto combattuta, soprattutto nel primo tempo, siamo riusciti a fare un gol. Nel secondo l'abbiamo definitivamente chiusa, però comunque sono sempre rimasti in gioco, ci hanno tenuto a testa fino alla fine. Sei tornato al gol? Un commento? Sono contento, finalmente l'aspettavo da tre partite, da quando sono ritrovato dall'infortunio. La società punta molto su di me e io sono molto contento e spero di farne altri per divertirci insieme ancora. Domenica prossima arriva in casa la Campese, un commento? La Campese è una squadra che anche l'anno scorso ci ha tenuto testa fino alla fine della partita. È una squadra molto preparata, molto fisica, però noi siamo concentrati e ci renderemo a giocare fino alla fine del campionato. Grazie Grazie a voi